E' martedì 13 luglio, 1993, e da ieri pomeriggio stanno lavorando per ricostruire il muretto con la Madonnina qui all'entrata di Torri. Pasqualino, Orazio, Domenico e Enzo che è in garage. Poi bisogna sempre cercare di far prima possibile il fatto bene. Si rifa subito la parte dei sud muri e qui e qui. E tu nello scavare hai ritrovato queste? No, queste le hai messo in garage. No, le hai levate prima. Le parro, qui non c'erano. No, eh sì, sì, anche me. Ma guarda che bellina. Questa è bella, altro che bellina. No, no. Io non mi ce le ho preoccupato. Perché? E' un'altra parte mia. Toscale, sorti. Allora ti ho mandato ripulire qui. Ci vuoi una piombara? non so più un po' io non andà soltanto a pipare a modellare gli altri ma mi alzarlo a due quattro fermi devo cercare la cazzola per il pedale ti dicevo io vado al cimento ti fa male si ora mi alzarlo qui è buono non so non so non so ma che è ma tu hai un po' io non so E' un bel buio Il 12 luglio 1993 e questa mattina Enzo Antonini, Pasquale Palmieri, Gioffredi Orazio e Matteone Domenico hanno completato la madonnina qui all'entrata del paese. L'entrata qui nel paese ha veramente un aspetto molto più bello. Se vogliamo anche più originale. Grazie a tutti.